E così come sulle lettere degli italiani all'estero, ma le pare decente, signor Presidente del Consiglio, che un Presidente del Consiglio in carica invii agli indirizzi degli italiani all'estero acquisiti attraverso i comuni e quindi attraverso il Ministero degli Esteri una depliant di propaganda con la sua firma, con le ragioni del sì. Lei è il Presidente di tutti gli italiani, non solo del Comitato del sì. È un comportamento indecente.